Allora ragazzi, mancano 9 giorni ad appuntamento col futuro, 51 giorni più o meno al Natale, è arrivato l'autunno, sembra che sia arrivato l'autunno e io ho dei problemi clamorosi con la barba, ma di questo ne parliamo dopo la sigla. Ovviamente non parliamo di questo, ma parliamo di un concetto molto importante che mi sono segnato ieri sera. Allora, volevo fare un video stamattina su come scegliere l'università, però mi rendo conto che non è molto contemporaneo, perché comunque è il 3 di novembre mentre registro il video e quindi magari non è proprio attuale, anche se comunque sono cose utili. Se si sta guardando questo video, che ne so, a maggio, a giugno, a settembre di un altro anno, potrebbe essere interessante questo video. Quindi cercherò di parlarne in generale per renderlo un po' più contemporaneo. Non è tanto il punto sul quale università scegliere, non parleremo di questo, anche perché è una cosa estremamente soggettiva, ma del come sceglierla. Qual è il percorso che ti fa prendere decisioni nella tua vita? Quali sono i criteri decisionali che ti fanno prendere una decisione? Molto spesso, almeno anche per quanto riguarda me, tendenzialmente quando avevo 19 anni, tu scegli l'università, ma in generale fai le scelte della tua vita per delle motivazioni fondamentalmente emotive. Ti sei visto la serie TV di Grace Anatomy e quindi vuoi fare medicina. Hai visto la serie TV Suits, oppure un'altra serie TV sugli avvocati e quindi vuoi fare giurisprudenza. Hai un amico che fa quello, fa l'avvocato, hai un papà che vuole che tu faccia l'avvocato, vuole che tu faccia il medico e quindi fai quello. Quindi hai un condizionamento fortemente emotivo, ma poco razionale. Perché la maggior parte delle decisioni nella nostra vita le prendiamo dal punto di vista emotivo e non razionale. Questa cosa non è in assoluto sbagliata, però ha un limite. E il limite è che tu sostanzialmente non ti rendi minimamente conto delle decisioni che stai prendendo. Se ti osservi, vedi che tutta la tua vita hai preso delle decisioni basandoti su dei fili, dei fili che c'aveva il mondo, che c'aveva la società, che c'avevano i tuoi genitori, che c'avevano i tuoi amici. I tuoi amici e i genitori tiravano questi fili e tu sostanzialmente ti muovevi esattamente come un burattino. Questo tra l'altro sarà il tema del prossimo ACF. Il tema sarà Pinocchio e quindi il tema del burattino. Invece dovremo compiere le nostre scelte sulla base di altri criteri. Per esempio potremo informarci di più nella pratica sul lavoro che vogliamo fare. Quindi informarci concretamente su quel tipo di lavoro. Probabilmente se stai studiando non hai la minima idea del lavoro che andrai a fare. Oppure quando studiavi non avevi la minima idea del lavoro che andavi a fare. Invece sarebbe buona cosa quella di informarsi, quella di fare, di fare nella misura in cui è possibile ovviamente, legalmente parlando. Non è che tutti possono fare esattamente quel lavoro, esattamente quella professione. Però puoi iniziare a masticare il mestiere, puoi iniziare a vedere, a osservare, a farti notare, a farti conoscere, a proporti per delle mansioni, per il lavoro che ti piacerebbe fare. O semplicemente ad osservare, osservare e chiedere, intervistare le persone la cui carriera vorresti intraprendere. Ho fatto una subordinata molto subordinante. Cioè se tu vuoi fare un lavoro, intervista le persone che lo stanno facendo. Vedi com'è, vedi i pro e i contro. Quando io ho deciso che volevo diventare un project manager, prima ancora di un imprenditore. Io sono diventato un project manager, quindi ho sviluppato determinate abilità nel marketing, nella vendita, nel lavoro su me stesso, nell'amministrazione. Però prima di farlo ho iniziato a parlare, ho iniziato a vedere veramente come funzionava, come funzionavano i meccanismi, cosa bisognava fare, parlare anche con qualcuno che lo sapeva fare meglio di me. Ma sostanzialmente è proprio nella pratica. Invece le nostre decisioni non sono dettate dalla pratica, non sono dettate da come le cose stanno veramente. Ma da delle sensazioni, da delle impressioni, da delle emozioni che vanno benissimo. Non è che pure a me piaceva la serie Grey's Anatomy, però non ci ho orientato la mia vita. Al massimo ho deciso che tipo di persona volevo diventare anche grazie ai film, certo. Perché no? Perché non farsi orientare dai film nel carattere che vogliamo avere, ma magari non nel lavoro. Poi magari potrebbe anche essere quello il lavoro tuo. Però la tua scelta non la prendi perché hai visto la serie tv, la prendi perché hai visto la pratica, il mondo reale. Però ecco, magari le tue decisioni non devono orientarsi soltanto su motivazioni emotive, ma devono orientarsi su motivazioni ponderate, su delle analisi, su un'analisi che fai veramente. È assolutamente importante imparare a prendere decisioni nella nostra vita perché la qualità della nostra vita passa anche per la qualità delle nostre decisioni. Ti lascio sempre in descrizione qui nel video i link per approfondire. Quindi il nostro Master in Coaching Management, il videocorso gratuito Attrai il lavoro, per attrarre il lavoro dei tuoi sogni prima che il lavoro dei tuoi incubi attragga te. Chiaramente se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, condividetelo, mandatelo a tutti, amici, parenti, iscrivetevi al canale e se non vi è piaciuto ovviamente fatevi i fatti vostri. Ciao!